E' scontro tra Regione Puglia e ambientalisti sulla modifica della legge salva ulivi del 2007. Il grido di dolore delle associazioni che temono speculazioni edilizie e oltraggi agli ulivi è giunto persino a Papa Francesco ma per l'assessore all'ambiente di Castro si tratta di farneticazioni. Non è vero, sostiene testo alla mano, che è previsto l'espianto, l'abbattimento o peggio la vendita e la commercializzazione degli ulivi monumentali. In Puglia sono il 10% dei 60 milioni di alberi presenti e sul punto Nicastro sfida i parlamentari grillini che hanno presentato un'interrogazione. Finalmente, finalmente a Roma leggeranno il testo se non l'hanno già fatto, è così finalmente la verità potrà emergere. E' una legge che mira a tutelare, a salvare gli ulivi e invece si continua a dire che è una legge tagli ulivi. Questo è un grossolano falso storico. In realtà la nuova regola richiesta dai partiti e non introdotta dalla Giunta prevede lo spostamento degli ulivi secolari solo in caso di piani edilizi antecedenti al 2007, circa 200 piante interessiate in 50 comuni pugliesi e ciò per contemperare il diritto all'ambiente con quello alla proprietà. Inoltre su 82 richieste presentate negli ultimi anni la Regione Puglia ha concesso lo spostamento di soli 2000 alberi. Mai nessun passaggio è prevista e non potrebbe essere altrimenti alcuna procedura che non solo non porti al taglio o all'abbattimento ma neanche una forma di mancato rispetto verso queste piante perché questo, ripeto, è una mistificazione della realtà.